Allora mister, dopo l'inizio sprint del Poggio si è partito, adesso inizia un'altra fase, un mese importante per voi, differente rispetto a quello precedente, però da un certo punto di vista anche stimolante, che mese si apre domani? Beh, innanzitutto al di là dell'inizio sprint è stato un mese, un mese e mezzo lunghissimo, quindi la sensazione è che non è volata, ma che ce la siamo sudata, sei partite sono tanto tempo, da qua chiaramente il discorso che si apre adesso è vero che da quale al prossimo mese, fino al 31 di ottobre, affrontiamo squadre importanti, soprattutto in trasferta, però come si usa dire, ma che poi è la realtà delle cose, pensiamo di partita in partita e quindi a quella di domani, è una gara difficilissima, è vero che lo sono state quelle che abbiamo appena affrontato, ma è anche vero che andiamo ad affrontare una squadra che ha un'identità ben precisa, una squadra che gioca un calcio propositivo, offensivo, totale, perché comunque lavora molto bene anche in fase difensiva, è allenata benissimo e quindi sono curioso di vedere come la nostra squadra possa affrontarla. Curioso in che senso questo aspetto della nostra squadra? che faccia quello che abbiamo fatto fino adesso, chiaramente con la stessa consapevolezza, con la stessa determinazione, con la stessa cattiveria, a noi non cambia niente, l'ho detto in tempi non sospetti, avere di fronte una squadra che sta lì vicino a noi in classifica rispetto a una squadra che sta un pochino più distante, noi dobbiamo avere sia in casa che in trasferta lo stesso atteggiamento, preparare la partita alla stessa maniera e portare in campo quella che è la nostra identità, quindi senza snaturarci e andare lì consapevoli che sarà una partita tosta e consapevoli però della nostra forza. Mister, che squadra è questo Matera? Stavo accennando un po' prima insomma le caratteristiche. Ha tanti giocatori sia di talento che di esperienze in tutti i reparti o no? Che opinioni ha del TEC? Ma dell'allenatore non posso che parlarne bene, a parte che abbiamo giocato insieme tantissimi anni fa a Monza in Serie C, però sono passati talmente tanti anni che forse non si ricorda neanche, ma al di là di questo ho un'opinione eccellente come deve essere, è una considerazione che è un tecnico che ha vinto tanto nella categoria, che conosce il girone a menadito, che dà l'impronta alla squadra da subito e ne testimonia il fatto che è ritornato a Matera e che la sua squadra rispecchia in toto quelle che sono le sue caratteristiche, quindi una squadra che sa giocare in velocità, è una squadra ben organizzata, ordinata, gioca in velocità, quindi nulla di sorprendente, ma anzi rimarco e faccio i complimenti ad Auteri per quello che ha fatto e quello che sta facendo. Cambia qualcosa se a Matera ha due punte e un centrocampo a 5 come nella scorsa partita? Forse a Matera, nel senso che per quello che ci riguarda noi sappiamo come poter lavorare contro una squadra che gioca a tre punte o a due punte. Come ho detto prima, non snatureremo quelli che sono i nostri concetti, i nostri concetti del palleggio, di poter lavorare per poter far male e quindi vediamo come si schiereranno e che cosa faranno, perché comunque so che il Matera nelle ultime quattro partite ha giocato con quattro sistemi di gioco e anche nelle partite in corso ha cambiato sistemi di gioco, quindi una squadra camaleontica in questo, giocatori duttili, giocatori che possono cambiare di posizione, però una cosa che potrei sottolineare che non cambiano i principi, perché comunque sia che possano giocare a tre, a cinque, a due, a quattro dietro, è una squadra che gioca in velocità, sa fare le cose molto bene e quindi sappiamo che partita andremo ad affrontare. Diceva prima che non cambia per il Foggia, a seconda del tipo di avversario, la partita che deve fare da un punto di vista tecnico, tattico, e invece da un punto di vista di personalità che serve, di mentalità nel preparare uno scontro diretto, così cambia qualcosa? No, no, nulla di quello che stiamo già facendo. Noi sotto l'aspetto della mentalità non posso rimproverare nulla ai ragazzi, perché chiunque abbiamo affrontato, l'abbiamo affrontato con la consapevolezza e la determinazione di un lavoro che precede poi l'esaltazione alle qualità dei singoli e questo anche domani lo porteremo in campo, ne sono sicuro. Diciamo che molte volte si può dire che queste partite non si devono neanche motivare, non si devono neanche preparare sotto l'aspetto emotivo, perché da sé questa partita ti può dare degli spunti intrinsechi. Quindi non vedo perché non possiamo evidenziare che quello che abbiamo fatto fin qui lo possiamo portare domani. Che tipo di settimana sarà quella appena la scorsa e com'è la situazione delle blu? Ottima, ottima, sempre in crescendo. Quando abbiamo a disposizione settimane intere come questa, anche se ho lasciato due giorni di recupero, visto il tour de force che abbiamo avuto le settimane scorse, stiamo lavorando benissimo, la squadra ha un ottimo atteggiamento, lo ha sempre avuto, quindi sotto l'aspetto fisico e psicologico eccellente. a posto dei ragazzi ci sono altri problemi? Qual è la situazione? No, no, siamo a posto. Però ragazzi è l'unico non convocato? Sì. Sì. È in via di recupero? Sì, potevamo già inserirlo da giovedì, ma sente ancora un po' di fastidio a calciare e quindi da martedì sarà a disposizione della squadra. Le dubbi di formazione, questa è quella che ha affrontato il tanto, sono possibili altre novità o un ritorno ai calciatori che invece erano almeno a quei due? Vediamo domani, io sono contento, l'ho detto anche allo spogliatoio, che la facilità di poter scegliere qualcuno e quel qualcuno di risposta da me, ma soprattutto alla squadra stessa, la la risposta è quella di esserci, di essere presenti, come ho fatto giocare lo Iacono, come ho fatto giocare Gerbo, Riverola come è entrato, Padovan come è entrato, lo stesso Letizia come è entrato, questi sono segnali che danno autostima al gruppo e fortificano il gruppo perché poi sanno che l'allenatore da un momento all'altro può decidere di cambiare, di poter mettere una formazione diversa di volta in volta, ma non cambia poi il risultato finale, quindi la prestazione caratteriale, perché poi l'abbraccio alla fine di tutta la panchina, di tutta la squadra a Letizia è la fotografia di quello che è lo spogliatoio in questo momento. Può essere stimolante di giocare una partita con questa, la ex per esempio per due calciatori come Letizia e Coletti o in alcuni casi a volte può essere anche contro un producento, di aver voglia di fare una grande partita? Io penso che nel momento in cui si va ad affrontare una squadra dove si è giocato per qualche anno o anche per una stagione ci debba essere la consapevolezza di quello che si sta facendo e quindi nel momento in cui questi giocatori scenderanno in campo di sicuro ci sarà la conoscenza e le capacità di poter mettersi a disposizione del Foggia. Non credo che potremmo parlare di ragazzini, cioè il fatto di poter esasperare o esagerare nelle giocate per far vedere di essere più bravi di quanto magari lo possono essere. Quindi sotto questo aspetto assolutamente sono sereno e conosco l'intelligenza e la maturità dei miei calciatori. Mister, è una partita nel ricordo di Franco Mancini, che ci ha giocato insieme in quella stagione 93-94, in cui so già per poco con la qualificazione in Coppa UEFA. Che ricordo ha, se ha degli aneddoti di Franco? Beh, ogni tanto ci si frequentava, ricordo che era appassionato di bombarli, non mancava volta che ci invitava a casa a suonare la batteria. Franco era a quel tempo un giocatore atipico, perché comunque avere un hobby, una passione e potercela trasmettere dava dimostrazione di una sensibilità spiccata. Tra l'altro un ragazzo eccezionale. E' presto per parlarne, perché mancano ancora una ventina di giorni, però c'è stato il sorteggio in settimana. Mi piacerebbe un po' capire che idea di questa compagnia che Foggia ha vinto nella scorsa di Foggia, oltre che nel 2-0. Ma io devo dire che, innanzitutto mi dispiace che già al primo turno, se vogliamo, in questo turno ci sia il Foggia. Perché come si fa in Serie A, non dico agevolare, però visto che il Foggia ha vinto la Coppa Italia o che il Foggia è arrivato secondo il campionato, mi sarei aspettato che per regolamento potesse essere teste di serie e quindi di poterlo poi inserire più in là. chiudo il discorso a questa mia considerazione. Tornando alla gara con Matera, due domande. Per quanto riguarda il campo, ha parlato prima di una squadra che gioca molto in velocità in Matera. Quali sono i rimedi da poter opporre a una squadra che riesce a giocare in velocità? Quello che abbiamo fatto fino adesso, mi sembra che la partita col Taranto possa anche dare una risposta a quella che potrebbe essere la partita di domani, quindi ho sempre sostenuto che nel momento in cui si sta attaccando bisogna stare attenti alla capacità della squadra avversaria e di poter ripartire. Noi le chiamiamo preventive, quindi la capacità di riuscire ad accorciare in avanti quando la palla è in una zona del campo, riuscire a leggere ed essere capaci di anticipare l'avversario nel qualora ci fosse un rimbalzo, un passaggio della squadra avversaria nel momento in cui verrà riconquistata la palla. Domani dobbiamo essere attenti soprattutto in queste cose perché comunque sono sicuro che avremo un palleggio, avremo in mano la partita, se non l'avremo è perché il Matera sarà più bravo di noi, allo stesso tempo quello che hai appena considerato è un aspetto che ne dovremmo tenere molto conto, quindi non concedere le ripartenze gratuite alla squadra avversaria. Invece per quanto riguarda l'ambiente, per la prima volta quest'anno dopo tante porti chiuse, seppur in trasferta ci sarà un ambiente diverso rispetto a quelli che avete visto fino ad oggi, 800 tipose a seguito da parte Foggia, poi ci sarà probabilmente tutto esaurito anche se per 4.500 spettatori o qualcosa del genere, è un ambiente anche diverso, vi portate dietro per la prima volta quest'anno anche tanta gente? Diciamo che l'abbiamo già un pochino assaporato a Francaville, di sicuro 800, 1000 e quanti quanti ne saranno, poi giocare in uno stadio pieno è già di per sé gratificante e quindi è l'atmosfera ideale per poter fare una partita. Avere dalla nostra parte o andare là invece che in 20, essere in 820 potrebbe essere sicuramente un vantaggio. Penso a Infantino, ma c'è oltre a lui, a Cinoan, quali calciatori sono ancora il volante tenere tutti i quali calciatori? Io credo che tutta la rosa per come è assemblata, è una squadra completa, anche gli altri attaccanti, i centrocampisti, i tre difensori sono giocatori di categoria, è una squadra che è una squadra ordinata, organizzata e allo stesso tempo ha anche individualità importanti. Diceva che il capitano serve il miglior focce in questa partita, c'è una somma di tutte queste sei prestazioni, del medio di tutte queste sei prestazioni senza commettere errori possibilmente perché non ce li possiamo permettere in una partita? Allora devo dire che in queste sei partite per quanto riguarda gli errori noi siamo cresciuti tantissimo e quindi la prestazione sia mentale che tecnica che atletica è sempre stata increscendo e quindi mi aspetto che domani la squadra faccia alla stessa maniera questo percorso. Ci vorrà più attenzione, l'errore non ce lo possiamo e non lo dobbiamo concedere e quindi continuare sulla strada intrapresa.